Benvenuti a questo nuovo ciclo di incontri su Blender dove cercheremo di rifare un po' le cose basilari ma soprattutto di andare un pochino più avanti 101 di Blender, cercherò di farlo un pochino velocemente adesso Blender si entra, si vedono le principali cose sono il cubo, la telecamera e la luce ci concentriamo sul nostro cubo la selezione avviene in realtà col tasto destro ma questo lo sappiamo già, credo si può spostare il cubo, insomma si possono fare un po' di cosette il tasto centrale del mouse fa la rotazione ci sono tasterine numerici 1 vedo di fronte, 3 di lato, 7 dall'alto e 5 per andare in orto quindi piccoli trucchi sono questi magari avessi fatto anche il start display l'avreste visto anche quindi 1, tastierino numerico, 3, 7, 5 il tastierino numerico per fare le varie visioni quindi 5 orto per tornare normale sopravvivenza di Blender abbiamo detto è la possibilità di andare in object mode oppure con tab in... allora, mentre su qua se faccio tab vado in edit mode o in object mode cliccando e abbiamo la possibilità di vedere edit mode possiamo modificare cliccando su questo tasto su un vertice possiamo muoverlo spostarlo lungo le tre direzioni CTRL Z si torna indietro ok possiamo selezionare con lo shift più cose quindi selezioniamo degli spigoli e poi infine delle facce se abbiamo selezionato delle facce si muove tutta la faccia e così via quindi altre cose ecco quando siamo in questa modalità vedete c'è modalità object compare un pallino al centro quello si chiama l'origine del nostro cubo ed è molto interessante perché se per caso per qualche motivo non è centrata succedono delle cose un po' curiose quindi a volte succede che magari noi selezioniamo tutto il cubo e lo spostiamo e vedete che l'origine risulta incentrata rispetto al cubo allora l'origine incentrata non è bello perché vuol dire che diventa difficile insomma lavorare col cubo di solito si ha l'origine al centro come si fa per riottenere l'origine al centro con spazio abbiamo la sequenza di possibilità e qui cerchiamo origin e abbiamo la possibilità di fare set origin e a questo punto abbiamo la possibilità o di rimettere il cubo in centro quindi set origin oppure di portare l'origine nel origin to geometry vedete che in edit mode non lo posso fare quindi devo essere in object mode ok quindi quando sono in object mode vedete che non è giusto facciamo spazio set origin e qui facciamo origin to geometry e abbiamo riportato l'origine nel posto giusto quindi questo per l'origine poi altri comandi essenziali sono andiamo di fronte uno facciamo g vedete che posso muovere il cubo e questo viene mossa praticamente lungo l'asse diciamo lungo i due assi x e z ok se io faccio sette invece muovo l'oggetto in un piano parallelo all'asse z questo è abbastanza interessante perché così lo posso manipolare bene ok quindi g per muoverlo grab sarebbe in inglese che vuol dire prendi prendi il nostro oggetto oltre a grab abbiamo anche lo scale s s praticamente lo facciamo s poi spostiamo il mouse e poi completiamo con il tasto sinistro ok e ci permette di scalare il nostro oggetto una piccola cosa ogni volta che scalate l'oggetto varia queste entità nello scale sulla destra io per aprire a destra ho fatto n oppure posso anche fare più qua per nasconderlo e poi anche trascinarlo di qua per buttarlo via n tipicamente prende la parte destra allora quando la scala e la rotazione come vedremo perché adesso abbiamo visto g la scala e la rotazione g r s la rotazione non l'abbiamo ancora vista però rotazione basta fare r e lui ruota possiamo fare in modo tale che tutte queste cose siano vincolate su un'asse ad esempio r ma facciamo ctrl z per averlo più o meno dritto allora se facciamo r z lui ruoterà solo attorno all'asse z muovendo il mouse e poi g invece g x si muove solo lungo l'asse rosso x g y quindi lo riprendiamo g y si muove g y dunque andiamo un po' siamo in object mode g y ah y si muove lungo quell'asse ok ecco perché non lo trovavo perché era un asse diverso da quello che mi aspettavo s x si muove solo restringe aumenta solo l'asse che abbiamo indicato e quindi abbiamo la possibilità di vincolarlo agli assi però la cosa che dicevo è molto interessante è che se la rotazione e la scala non sono perfettamente giuste vedete che sono messe in questo modo alcune delle funzionalità di render non funzionano bene quindi dobbiamo fare il reset della scala della rotazione che si dice apply quindi facciamo apply dunque object transformations ok apply object transformation dovremmo fare l'apply della rotazione vedete che mi ha annullato la rotazione e poi la scala che mi ha annullato voglio avere messo 1 la rotazione e la scala questo perché sennò poi diventa un pochino un dramma sennò torniamo indietro un altro modo per ripristinarlo è sempre da object facciamo apply rotation scale ok quindi facendo così abbiamo ottenuto lo stesso effetto ok ora la primissima cosa che volevo farvi vedere è un piccolo applicazione di questi concetti facendo facciamo ctrl n quindi torniamo all'inizio quindi lo schermo base quindi start display per vedere i tasti che premo a questo punto vediamo se riusciamo a fare una piccola sedia che è sempre il diciamo il 101 di blender allora come facciamo a fare una sedia innanzitutto facciamo il piano dove ci sediamo quindi questo cubo lo facciamo con SZ e lo ripricioniamo un pochino aspetta magari un po' più da lontano SZ ok e quindi facciamo il piano su cui ci sediamo dopodichè vogliamo fare le quattro gambe di in basso allora qui ci sarebbe un sistema per dunque noi selezioniamo andiamo in edit mode di questo oggetto ci sarebbe un modo di dirgli selezioniamo vedete qua la faccia questa e poi facciamo l'estrusione quindi con E viene estruso verso il basso e sarebbe bello se potessimo farlo però su gli estremi agli angoli tasto destro contro Z eventualmente ok e quindi dobbiamo trovare il modo di dividere questa questa diciamo questa base in modo tale da presentarci dei quadrati all'estremità allora lo guardiamo magari dall'alto questo oggetto e usiamo il comando ctrl r ctrl r che avvicinandomi a uno dei lati vedete che fa comparire degli anelli si vedono bene magari aspetta facciamolo qua facciamo ctrl r vedete che l'anello questo qui sta circondando tutto è un anello che puoi dividere a metà esattamente la nostra la nostra il nostro ripiano noi vogliamo farne due di questi e vorremmo farli in modo tale che siano allineati sulla destra adesso facciamo così li confermiamo e poi vedete che li possiamo spostare col mouse ma noi col tasto destro li manteniamo centrati ok ora a questo punto quello che è interessante rimangono ancora selezionati con A invece no se li vogliamo di nuovo riselezionare perché adesso è la piccola ricetta che vi insegno si seleziona tutto l'anello quindi tutto tutto il giro che passa con alt tasto destro vedete che lui è selezionato tutto e poi con shift alt tasto destro selezioniamo anche gli altri anelli e poi cerchiamo di fare sx li avviciniamo verso l'estremità ora qui volendo essere un pochino precisi e non andare a caso facciamo tasto destro usiamo questo magnete che permette di allinearsi alla griglia fondamentalmente e ripetiamo sx vedete che sx in realtà lui non ci ha ancora quindi sx si sposta vedete di una quantità non si sposta linearmente ma si sposta di frazioni contenute quindi se io sono qua quindi sono praticamente vedete che mi sono spostato queste le estremità 1 2 3 4 ok quindi abbiamo 4 step dalla fine qui adesso adottiamo la stessa tecnica per fare anche l'altra estremità quindi l'altra divisione quindi adesso facciamo ctrl r ok muoviamo la rotellina per avere 2 ok invio tasto destro per averli centrati s y e te che ce l'abbiamo qua e qui abbiamo detto dobbiamo contare 1 2 3 4 ok e così abbiamo diviso in parti simmetriche quindi siamo sicuri che siano simmetrici a questo punto quello che dobbiamo fare è selezionare quindi vediamo un po' il lato l'alto no quindi l'alto vedete che qua mi dice dove l'alto la parte blu deve andare verso l'alto quindi la parte bassa è questa selezioniamo la 1 2 sempre con lo shift 3 e col tasto destro 4 selezioniamo queste 4 gambe e poi facciamo E estrude e andiamo verso il basso ecco però vedete che è un po' un casino perché mi sta praticamente facendo cercando di allinearsi alla griglia quindi facciamo CTRL Z ok e togliamo il nostro magnete e facciamo il nuovo E e vedete che adesso ci obbedisce no? quindi a questo punto abbiamo fatto tra l'altro in basso a sinistra vedete di quanto sta estrudendo e se io volessi estrudere esattamente di un numero faccio 1 e lo numero fa di 1 oppure backspace cancella e poi 2 lo faccio lungo 2 oppure se lo faccio 1.2 ok invio quindi 1,2 metri adesso qui in realtà non è in scala ma abbiamo visto come fare questa cosa facciamo la stessa cosa per la spalliera quindi shift tasto destro e poi facciamo estrusione verso l'alto della spalliera perfetto allora a questo punto cosa rimane da fare vogliamo fare 2 almeno 2 almeno 1 qua sopra e poi eventualmente no? forse bastano anche 2 qua si mettiamo 1 qua magari e 1 qua ok allora per fare ciò adottiamo la stessa tecnica che abbiamo fatto prima con cliccando questo in modo tale da fare un ctrl r vedete mettiamo 2 di questi ok a destra e poi la portiamo magari facciamo s s vi ho detto z per vedere quanto larghi vedete così è 1 facciamo 2 3 4 4 poi ce lo spostiamo spostiamo questi signori con g y no g z vediamo un po' di riuscire a quindi facciamo alt tasto destro e shift alt tasto destro ok e poi mi sarei aspettato di poterli trascinare ok rifo comunque il problema era che era premuto questo quindi dobbiamo premere quando ci serve ma toglierlo quando non ci serve ripetiamo il procedimento cerchiamo di individuare le dimensioni di questa maniglia di questa barra di dietro applichiamo il ctrl r così confermiamo col tasto sinistro e poi anche con il tasto destro così siamo sicuri che è esattamente a metà la stessa cosa lo facciamo a destra sull'altra a sinistra quindi lo confermiamo eccetera quindi abbiamo due cose simmetriche esattamente di qua e di là selezioniamo shift alt questo e poi shift alt questo in modo tale di averle selezionate insieme così siamo sicuri di lavorarci in maniera simmetrica a questo punto invece applichiamo quella tecnica abbiamo detto con questa facciamo s s z e vedete che così possiamo lavorare sia a sinistra che a destra e facciamolo in modo tale che siano più uguali ok allora a questo punto questa cosa qua la shiftiamo togliendo appunto questo signore qua in modo tale da mettere su un'estremità perfetta e poi dobbiamo unire queste due facce quindi selezioniamo con faccia shift faccia e facciamo un bel bridge vediamo bridge vuol dire bridge edge loops interessante funzione che si unisce i due edge loop perfetto ora a questo punto a per deselezionare tutto e facciamo anche un'altra cosa qua sotto questa cosa sotto la facciamo in maniera simile quindi facciamo ctrl r così tac e poi ctrl r anche qua così tasto sinistro e tac e poi facciamo il nuovo stesso trucco shift alt e shift alt ok e poi abilitiamo il magnete facciamo s z ok 1 2 3 4 5 insomma vediamo un po' quello che ci piace è importante che sia simmetrico e poi lo impostiamo togliendo il magnete nella posizione dove vogliamo avere la secondo il secondo diciamo asse traverso e poi qui ripetiamo la stessa tecnica di questo e poi shift questo e poi facciamo spazio bridge edge loop ok quindi abbiamo ottenuto la nostra prima seggela se questa sedia vedete che è un pochino troppo larga in realtà possiamo manipolarla facendo dunque da in object mode possiamo fare s x e ricondurla diciamo alle proporzioni migliori e poi anche sull'altro asse s y ok comunque più o meno voi la potete fare come volete ora prima di abbandonare la nostra prima sedia ci facciamo ancora soltanto un piccolo trucco una piccola cosa possiamo prenderla di lato edit e possiamo prenderla praticamente e ruotarla leggermente quindi possiamo prendere andiamo un po' a selezioniamo un po' di vertici con la v no non è la v è la b con la b però magari premiamo z per vederla per selezionarli tutti quindi facciamo b e selezioniamo tutti questi facciamo r vedete che spostiamo un po' questo asse e poi lo mettiamo un pochino curvo ok in modo tale da avere lo schienale un pochino più curvo quindi l'ho ruotato ho fatto r l'ho ruotato e lui si è leggermente incurvato ok quindi noi adesso facciamo z di nuovo abbiamo questa sedia leggermente curva un altro quello che stavo dicendo prima una cosa invece interessante è di mettergli il bevel il bevel è un modificatore bevel ecco vedete che il bevel praticamente rende un pochino più armoniche con due segmenti le attaccature che se no sarebbero troppo dritte e quindi sono molto poco realistiche ok così invece le ha curvate e dopodiché si può tentare di adesso non è detto che qui funzioni ma di cambiare anche lo shading se mettiamo lo shading smooth ok quindi la sedia quindi tendenzialmente viene messa in maniera tale da essere davvero un aspetto un pochino più realistico eventualmente mettiamo un pochino più di segmenti ancora ok e quindi abbiamo finalmente la nostra sedia fatta bene è tutto per questo ricordate comunque prima di abbandonare di andare in object mode e di fare l'applicazione di questo oggetto e poi potete esportarlo salvarlo per la prossima volta quindi file save as e ve lo salvate come sedia così non ve lo quindi sedia punto blend e se per caso questa sedia ve la volete portare in second life in open sim dovete fare file export collada e in collada gli mettete le opzioni static di second life open sim e poi qua diventa un sedia punto da e e quindi avete il avete il vostro oggetto che potete eventualmente verificare che funzioni anche su second life ah un'altra cosa prima di andare avanti e prima di terminare ulteriormente questa cosa controllate le normali normali quindi dovete andare in edit mode e in edit mode andate nella parte qua dove dice normali selezionate qui allungate eventualmente questo valore e verificate che tutte le facce abbiano una luce diciamo verde che esca verso l'esterno come in questo caso se vedete che qualcuna di queste di questi capellini sta puntando nella direzione sbagliata allora niente problema potete o aggiustare tutto andando qui c'è la possibilità di dire il dunque vediamo un po' le normali saranno qua? no ecco le normali sono sulla terza shading UV quindi potete fare recalculate così ricalcola tutte le facce verso l'esterno oppure selezionare alcune facce e poi fare flip direction quindi magari seleziona tutto e poi recalculate e flip direction ecco vedete questa qui per esempio è una sedia con le normali sbagliate perché sono sbagliate perché stanno puntando nelle direzioni sbagliate cioè qui dovrebbero puntare verso l'esterno invece stanno puntando in maniera irregolare vedete che sono capelli un po' strani quindi il giusto di questo è essere sicuro che sia più o meno così quindi riducete cioè che escano in maniera perpendicolare a ogni faccia se non fate questa cosa possono verifica possono accadere strane cose quando poi li portate nei vari in open sim second life e compagnia cantante allora è tutto credo per la prima lezione ci sentiamo comunque in open sim per parlarne meglio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti